Sono oltre un migliaio le persone avviate al lavoro attraverso gli strumenti anticrisi e di servizi messi in campo dalla provincia di Pordenone nei primi otto mesi del 2013. A renderlo noto, illustrando i dati forniti dagli uffici del settore politica del lavoro, coordinato dal dirigente Gianfranco Marino e il presidente Alessandro Ciriani. È un risultato di cui andiamo orgogliosi e che premia gli sforzi fatti dall'amministrazione provinciale per creare dei servizi all'occupazione all'impiego moderni e efficienti. È chiaro però che questa è una goccia nel mare di fronte a 10.000 disoccupati, tra mobilità e disoccupati in senso stretto della nostra provincia, collocare 1.000 persone significa aver assolto al 10% di quelli che sono i bisogni della nostra comunità. Tuttavia credo che sia importante il fatto che un ente pubblico tenta di eguagliare le stesse performance degli enti privati e quindi da questo punto di vista rispetto al passato abbiamo fatto passi da gigante. In questi giorni molto si sta parlando del destino delle province e nello specifico di che fine farà il servizio pubblico dell'impiego e soprattutto chi vi opera. Nel caso della provincia sono 26 i precari che da dicembre rischiano di restare a casa. Beh guardi, ormai abbiamo prodotto talmente tanti dati, tanti studi che dimostrano in modo inequivocabile che chiude le province non comporterà alcun risparmio e che i veri mostri burocratici di spesa sono i ministeri e le regioni. Quindi la riforma vorrebbe partire da loro. Questa è stata semplicemente una buttata politica ormai scappata di mano. I problemi sono quelli dei centri per l'impiego. Noi abbiamo puntato tutto sul sociale, sul lavoro, cioè nella coesione della nostra comunità. Questo dovrò fare politica e amministratori. Dall'altra parte credo che gli esempi siano poco virtuosi. Regioni che hanno creato buchi spaventosi, soprattutto in sanità, una burocrazia che ci sta soffocando. E poi creare più centri di spesa aumenterà per di più il costo per i cittadini. Un impegno, quello del settore delle politiche del lavoro della provincia di Pordenone, che proseguirà anche nel 2013, nonostante il futuro nebuloso che si prospetta per le province. Eppure i problemi non mancano. Non mancano neanche con questa regione. Noi siamo creditori di 6 milioni di euro verso la regione per i contratti già stipulati con le aziende che hanno ricollocato lavoratori che erano disoccupati e di questi soldi ancora non c'è traccia, ma soprattutto la regione da 4 mesi ha sospeso ogni incentivo a ricollocamento. È molto strano che una regione che vuole parlare di lavoro e mettere al centro l'occupazione abbia privato chi opera sul campo dell'unico strumento che c'era per arginare una crisi molto pesante. Io mi auguro che la Seracchiani si renda conto di quello che sta facendo e ci metta nelle condizioni di poter operare, altrimenti la crisi sarà ancora più complicata.